Allora, video diverso dal solito oggi, non perché lo stia registrando dalla macchina, ma per gli argomenti trattati. Però, prima di partire, due comunicazioni importanti. La prima delle quali molti mi hanno chiesto, ma perché non commenti il WEC, è interessante? Rispondo pubblicamente, no. Il WEC non mi interessa, non mi affascina, non mi prende. Io sono nato per parlare, per informarmi e seguire la Formula 1. Quindi, a meno che non succedano cose inenarrabili, il WEC per me è completamente fuori portata. Solo ed esclusivamente Formula 1. Altra cosa, sarò, quindi indipendentemente poi dai risultati della Ferrari, almeno per il momento. Altra cosa, sarò a Dimola, non so ancora dove, ho molti dubbi. A Dimola, tra l'altro, venerdì, sabato e domenica, quindi tutto il weekend. Tribuna Gresini, Acque Minerali, alla Villeneuve, non lo so. Una delle discriminanti sarà anche il Meteo, anche se penso di prendere il biglietto molto prima. Meteo, perché poi ci sono alcune tribune coperte, altre no, quindi vediamo. Tra l'altro, tra l'altro, se qualcuno di voi dovesse avere un pass, dovesse avere un vantaggio per l'acquisto di biglietti o altro, fatemi sapere, perché sarò sicuramente molto riconoscente nei confronti di chi dovesse avere un biglietto in più. Ora, veniamo al cuore del video. Gli argomenti da trattare sono principalmente due. Il primo dei quali, parliamo di Ferrari, a Miami ci sarà una nuova livrea. Ho scoperto questa cosa, tra l'altro penso sia uscito un comunicato stampa ufficiale Ferrari, però l'ho letta innanzitutto da Formula 1, per merito di Duchessa. Ho letto questo tweet, mi sono un po' rinformato, praticamente Ferrari renderà omaggio a Regazzoni, ad Ascari, a chi ha guidato la Ferrari in passato, con successo, ai nomi storici, e proporrà quello che è un concept di SF24 con delle sfumature azzurro e blu. Io ora non sono in realtà un amante delle livree diverse, nel senso che non mi suscitano chissà quale emozione. Io sono molto più interessato a quel micro aggiornamento tecnico che ti può cambiare la dinamica del mezzo, del veicolo, che ti può dare un vantaggio in termini di performance, però sicuramente gli amanti del merchandising, i collezionisti, sicuramente ne trarranno un grande beneficio. Ovviamente l'appuntamento di Miami è fondamentale, soprattutto dopo una tappa come quella cinese, un pochino sottotono, ritorneranno temperature più calde, più estive. Io resto convinto che il problema non sia esclusivamente quello della temperatura, ma l'adattamento alla gomma dipende da tanti altri fattori, quindi mi svincolerei un attimino da questo pensiero fisso dove si guardano esclusivamente le temperature e da lì si pensa di aver capito come andranno le cose, perché così facile assolutamente non è. Comunque, nuova livreea per Ferrari, spoilerata poi, vi dicevo, sia attraverso un comunicato ufficiale, ma anche tramite un reel che ha già fatto capire, un reel ufficiale della scuderia Ferrari, su Instagram che ha spiegato un po' tutto. Sono curioso, sì, però il giusto, ripeto, onestamente io guardo altro. L'altra notizia per la quale mi sono sentito di intitolare il video così, credo che lo chiamerò evoluzione o rivoluzione, è questo. Allora, si sta discutendo dell'eventualità di dare punti ai primi 12 classificati, quindi si passa da un punteggio ai primi 10 ai primi 12. Bene, interessante, evoluzione per alcuni, rivoluzione per altri. Innanzitutto, prima che questa cosa vada in porto, c'è bisogno dell'approvazione di FIA, di FOM, al momento sono discussioni, non c'è niente di ufficiale, anche se secondo me a breve si ufficializzerà il tutto. E poi anche, almeno, se non sbaglio, questo è quello che ho letto su Motorsport, perché la notizia è di Motorsport, almeno 5 squadre a favore. Ora, al di là di tutti gli aspetti burocratici, perché è importantissimo, fondamentale dare punti ai primi oltre 10, quindi 12, ma anche se questa idea si trasformasse nei primi 14, io sarei comunque completamente a favore. Tra l'altro vi ricordo che una volta in Formula 1 si davano i punti soltanto ai primi 6, e si partiva dal primo classificato che ne prendeva 10, ora ovviamente è cambiato tutto, perché è importantissimo. Motivo numero 1, ne ho 3 in testa, spero di ricordarmeli tutti. Motivo numero 1, tu vai a rendere onore anche le scuderie che sono tendenzialmente in difficoltà, come ad esempio adesso Alpine, tra l'altro uscirà un video dedicato ad OXU di loro. Gli vai a comunque rendere, non omaggio perché vuol dire una cosa diversa, ma comunque valorizzare il loro lavoro. è fondamentale, anche poi in ottica di spartizione poi della torta, dei ricavi, di quello che guadagna la Formula 1, voi sapete benissimo che le squadre guadagnano in funzione dei punti che fanno alla fine del campionato, quindi già da questo dovreste capire che è giusto dare punti a tutti e poi ovviamente andare a tarare quelli che sono i premi in funzione dei punti che hanno preso anche scuderie che magari fanno uno o due punti nell'intero campionato, importantissimo, quindi assolutamente a favore. Il motivo numero 2, forse a cui poche persone pensano, è questo. Se io sono un pilota di una scuderia molto scarsa, che tendenzialmente mi fa sempre P16, P17, P18, o anche P19 e P20, anche se questo succede raramente perché ci sono sempre dei ritirati alla fine di una gara, quindi difficilmente si arriva veramente al diciannovesimo e ventesimo, ma comunque il senso è questo. Mi viene in mente l'esempio di, alcuni anni fa, anche se adesso sto pensando ad Albon e Sergiant, comunque alcuni anni fa c'era una differenza clamorosa tra Russell e Latifi, entrambi in Williams. Ora, uno dei due piloti, c'è bisogno di dire quale, era molto più forte dell'altro, ma quando poi tu andavi a vedere le classifiche a fine campionato, comunque sia, entrambi erano a zero. Peraltro, ho un ricordo un po' confuso, non ne sono sicuro, ma poi andrò a controllare. Se non sbaglio, il primo pilota a fare punti, credo ne esso, non ricordo se nel 2018-19, comunque credo sia stato Kubica l'anno che ha corso con Russell, ma andrò, verificherò. Il senso è quello di evidenziare quelle che sono le differenze tra compagni di squadra che tendenzialmente non vanno mai a punti, perché se domani prendono me al posto di Sergiant, vi assicuro che finirò tutte le gare a zero punti, vi assicuro che sarò sempre a zero, ma sarò a zero tanto io quanto il Gasly di turno, o Locon di turno, se l'Alpine resterà questa, e quindi è ingiusto per il Locon di turno e per il Gasly di turno terminare tutti e due, più me, ovviamente sto scherzando ma il senso però è serio, tutti a zero punti, quando in realtà quei piloti, i veri piloti, hanno corso effettivamente da Formula 1. Quindi secondo me è fondamentale dare punti, io tra l'altro li darei fino al ventesimo. Il secondo motivo quindi è questo, valorizzare il lavoro e il valore di tutti quanti, e poi scegliere i premi in base a quella che è una nuova classificazione. Tra l'altro, importante, i punti, come sapete benissimo, incidono pesantemente anche sul budget cap, nel senso che, più che sul budget cap, volevo dire sulla galleria del vento, quindi sulle ore concesse ai vari team, c'è una classifica mondiale, lo sapete già, più punti prendi alla fine del mondiale, meno ore in galleria del vento avrai e viceversa. Quindi anche qui si andrebbero a creare delle piccole differenze, detto che a me onestamente il discorso della galleria del vento con restrizioni non è che faccia impazzire, secondo me bisognerebbe pensare ad altro. L'altra differenza per quanto riguarda questo discorso della nuova assegnazione dei punti è che obiettivamente tu vai a creare delle differenze, sia tra piloti, ma ovviamente anche tra squadre, e quei soldi che si prendono in cambio poi si traducono anche in sponsor, comunque in tutta una serie di dinamiche che vanno anche ad incidere sul merchandising, che sono sicuramente molto molto importanti, quindi assolutamente a favore di un punteggio che vada a coprire tutti i piloti che partecipano al mondiale, perché è giusto creare valore, è giusto differenziare dove le differenze effettivamente ci sono. Molto brevemente mi ero dimenticato uno dei motivi fondamentali per i quali io sono a favore di un punteggio più esteso tra piloti anche nelle posizioni indietro. Il motivo è ovvio, più punti dai a chi va indietro e più questi piloti hanno un motivo per mettersi in mostra, per lottare e non accontentarsi di una sedicesima, diciassettesima posizione. In questo caso, se si andrà fino ai primi dodici, tra la dodicesima e la tredicesima per esempio, ovvio l'animo del pilota comunque spinge nella direzione di comunque guadagnare la posizione, però dare più punti ovviamente fa sì che i piloti si sveglino un po', anche quelli che per via di un certo distacco tendenzialmente potrebbero accontentarsi. Per esempio mi viene in mente il discorso del punto che viene preso dal pilota che fa il giro veloce in gara, anche questa dinamica si potrebbe in qualche modo rivedere e poi magari dare un punto anche a chi si qualifica primo o magari punti in generale per le varie posizioni di qualifica. Sotto questo punto di vista va bene così, vediamo cosa succederà e vediamo anche, se è vera la notizia, tornando alla Ferrari, che si è trovato un accordo con HP che potrebbe diventare main sponsor. Io l'ho letta su Formula Passion, non c'è assolutamente alcun tipo di ufficialità, ve la condivido così come l'ho letta io, ma vediamo, vediamo. È molto interessante l'accordo e potrebbe anche essere merito, forse in qualche modo, di un Lewis Hamilton che viene in Ferrari e quindi comincia ad attirare sia sponsor e speriamo anche nuovi tecnici. Ciao!